Ma stiamo scesi all'inferno, noi abbiamo una testa di minchia che mi spiega a me come festeggiare, ma vaffanculo! Ragazzi, insieme a me, seduti alla vostra tavola, ma vaffanculo! Nessuno mi dice come devo festeggiare il Natale, ma chi cavolo è il membro del CTS che mi spiega come festeggiare il Natale?